appena è entrato nella casa del grande fratello federico massaro ha subito stretto un bel rapporto con vittorio menozzi e i due continuano a frequentarsi anche adesso a distanza di un mese dalla fine del reality mentre andava in onda il gf sui social è nato l'hashtag vittorico e in molti si erano convinti che tra i modelli ci fosse qualcosa in più di una semplice amicizia anche nella casa di cinecittà qualcuno l'ha pensato in una storia instagram pubblicata pochi giorni dopo la sua eliminazione federico massaro però è stato chiaro certo che rivedrò vitto gli voglio bene io e lui siamo amici sì amici eppure c'è ancora qualcuno che pensa che i due ex concorrenti del grande fratello siano fidanzati per questo motivo nei giorni scorsi il 29 n milanese ha fatto chiarezza federico massaro io e vittorio siamo amici e siamo etero vitto è qui a milano e fa le sue cose gli ho anche dato una mano lui sta cercando di imparare la recitazione ha fatto avanti e indietro e ora è qui allora io voglio chiarire questa cosa e infatti vi ringrazio per avermi fatto questa domanda sia io che lorenzo il mio migliore amico che un altro mio caro amico che vittorio siamo etero non è che non esistono amicizie belle tra etero maschi non è che se io do una mano a vittorio e viene a vivere da me allora siamo una coppia di fidanzati no questa cosa deve finire ci sono le amicizie belle tra etero come ci sono anche le coppie ma noi siamo etero sessuali basta con questa cosa quali sono le domande più imbarazzanti che mi sono state fatte da quando sono uscito dal grande fratello ragazzi onestamente proprio queste sul fatto che io e vitto siamo una coppia perché è assurdo che appena due ragazzi sono molto insieme allora tutti pensano che ci sia più che amicizia sia chiaro che io non ho problemi uno può essere homo o etero e non fa differenza uno può essere etero o no se mi sta simpatico diventa mio amico ma fine se dico cento e mille volte che sono etero allora basta non continuate a dire queste cose su me e i miei amici